Dopo i fatti di Verona e la curva prima chiusa per insulti razzisti a Mario Balotelli e poi riaperta, arriva una proposta di legge per reintrodurre il reato di ingiuria per odio razziale nel codice penale presentata alla Camera da Forza Italia e Lega. Primo firmatario l'onorevole padovano Marco Marin. Dispiace ricorrere a una modifica del codice penale, ma è evidente che l'etica sportiva da sola non ce la fa, ha sottolineato l'ex sottosegretario leghista Giorgetti, anche lui tra i firmatari. Abbiamo voluto dire una cosa molto semplice, siccome tutti noi siamo contrari al razzismo, questo è evidente, non serve neanche dirlo, abbiamo voluto dire che nelle manifestazioni sportive, vogliamo dire basta, la stampa e i media danno grande risalto a quello che avviene nelle manifestazioni sportive, perché giustamente i ragazzi, le famiglie partecipano, vedono 4 milioni e mezzo di ragazzi, di atleti tesserati alle federazioni, in Italia il più grande mondo del volontariato che c'è, siamo stufi di vedere le ingiurie riaziali di carattere etnico, religioso, nazionale, territoriale, quindi abbiamo detto basta, abbiamo fatto una proposta di legge molto chiara, abbiamo detto chi sbaglia paga la responsabilità individuale, se sbaglia uno non si può criminalizzare tutta una tifoseria, la squadra, lo sport tutto o magari anche una città, addirittura una città, la responsabilità individuale è giusto, abbiamo voluto fare chiarezza.